Eccoci qua, una nuova parte di Sonic Generation e battiamo Metal Sonic Affrontami se vuoi che ho, Emerald Sono sicuro che non ha questa voce, però gliel'ho fatta così lo stesso E via! Così, ma l'immagino così, Metal Sonic L'avevo proprio ignorato Metal Sonic, non mi ricordo neanche che ci fosse Metal Sonic Remix fighissimo comunque della musica di Metal Sonic, ascoltatelo pienamente Mi sembra che sia di Metal Sonic la musica, ce la riconosco ma non so se è proprio il suo tema principale Io ho fatto male Ok Madonna che sfigato, io mi ricordavo forse, non dico difficile, ma un po' più complicato come boss Ok, adesso mi gira al lato, quindi Aia aia Ok, già è più complicato la sta facendo L'avevo sottovalutato assai Basta fare lo Spin Dash, io l'altra volta non faccio mai lo Spin Dash perché questo ci ho messo così tanto a capire come fai il culo Aia, io pensavo fosse già spaccabile Ok E l'ho già battuto C'ho messo un minuto Questa parte durerà assai devo dire Vabbè Vabbè Come dire Non so neanche se andare avanti a fare il boss finale o no, cioè vuol dire Sarebbe disordinata come cosa Facciamo così, adesso questa parte qua la La finisco qua perché ho fatto questo boss qua E va bene così, cioè vuol dire Non è che devo fare altro Però Però Si insomma Rivediamo la prossima parte in cui Ribatterò il boss finale perché c'ho tutti gli esmeraldi quindi Penso appena riesco a tirar di fuori Select Sinistra, destra, quadrato, X, triangolo, niente E non mi vengono fuori gli esmeraldi Poi andare nel corso del boss Non mi sembra Seriamente Come c'ho sentito fuori gli esmeraldi Devo sapere quante ne ho Vabbè La musica si interrotta di colpo Ecco ecco Gli ho tutti Quindi se ne è una prossima parte In confronto al boss finale Ciao